lo tesso sai qual è che sto cazzo di cosa qua no mentre io e te parliamo su skype guarda qua si vede ancora è come se si smaterializza quando io mi giro per non farsi scoprire diventa uno o due piccoli riflessi blu un po più spaziali un po più accesi come ti posso dire un po più brillanti di quello che vediamo noi che è quasi trasparente diventa qua come mi giro diventa ho un leggero riflesso nero oppure un leggero riflesso blu quasi elettrico e il bello è che io non sono né drogato né alcolizzato capisci che ti voglio dire eppure sto cazzo di cosa si vede lo stesso guarda guarda a volte si muove a volte no a volte riflette più trasparente a volte a volte sembra quasi fumo a volte sembra una sostanza plasmata trasparente poi quando mi giro di colpo vedo leggeri riflessi neri alla mia altezza o quasi sul pavimento oppure leggeri riflessi tipo di un bluetooth acceso elettrico che ci sono un momento e non ci sono più pazzesco e guarda che è davvero un caso particolare comunque guns cioè non so se un riflesso di luce ombra magari se c'è stato davvero un fantasma o una striscia di fumo fantasma aliena io non ci credo a ste cose però capisci l'effetto cioè non è che io faccio effetti speciali capito cioè è apparso o per gioco di luce ombra perché c'è davvero un fantasma alieno che è innocuo fra l'altro perché lo percepisco debole anche perché io ne capisco di ste cose fantasmi qua della mia famiglia non ce ne possono essere però potrebbe essere un riflesso di un fantasma una parte di un fantasma che si muove che sembra quasi una pratica erotica o una pratica marina o una pratica di giochi di fumo ma in realtà non si capisce bene cos'è resteremo resteremo col mistero perché cavolo ho provato a muovere la luce ho provato a muovere la felpa di là dietro e non capisco se è un riflesso incondizionato di monitor che qua sotto è del materasso che due metri e mezzo là dietro del campeggio oppure non so che eh sì sì fra un po andiamo a letto sì aspetta che blocco